L'Unione Nazionale Consumatori contro la tassa sulla seconda casa in Sardegna. Continua la battaglia contro la tassa sulla seconda casa in Sardegna, che verrà impugnata dal Comitato Regionale dell'Unione Consumatori, davanti alla Commissione Europea. Lo ha annunciato la stessa UNC, che ha attivato un apposito collegio di legali. Secondo il Comitato, la norma regionale viola palesemente i principi comunitari sulla parità di trattamento di tutti i cittadini dell'Unione Europea, sulla libera circolazione delle persone, nonché sulle regole di concorrenza. L'Associazione ritiene che la legge andrebbe a colpire soprattutto i piccoli proprietari, che dovrebbero pagare circa 660 euro l'anno per una casa di soli 60 metri quadri.